Allora ragazzi, oggi siamo qui con i Meat Boy Allora Fino a Super Meat Boy, allora Fino a l'avevo fatto due puntate di Super Meat Boy, solo te Sì, Meat Boy Ok, questo vabbè, si vedi iniziale Solo che Meat Boy Cioè, era vecchio Questo invece è quello nuovo Lo usamo Siamo ammettamente, però vabbè, l'ultimo E cominciamo con Super gameplay Spero di finirlo prima o poi Che non è Cioè, non è Non è Ma che cosa sembra in un video? Vabbè, la solita cosa, no? Meat Boy sta con quella Ficcio, odio questo Non è Vabbè, la solita cosa, no? Beh SuperMateBall Ci odio questo Eeeh E quindi questo si rivelia E si va? Iniziamo Non so cosa sta facendo Non ho mai giocato, manco ho cominciato Cioè l'ho aperto adesso per qualcosa Perché gli ha tirato un cazzo Che cazzo fa? Mi sa scordi Che cazzo vuol dire? In the forest Zan 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 Yeah, everyone Coglio io Coglio io che cazzo Eeeh Ma perchè li dire i cazzotti Che devo fare Ma non lo voglio vedere le best Perchè mi fa vedere le best Coglio il What the? No Cazzo Cazzo Sono una shifta Eeeh Sfifta Ok, ho capito Sì, allora... What a... What a... What a... What a... Salta su, attento alla... Attento a quel... Perchè cazzo non mi salte? Devi saltare! Salta! What a... Salta... Ahahah! Cos'è? Va bene, ho preso questa cosa, mi piace E la rifugio Ancuno sarebbe lei Ma dov'è? Che cazzo devo fare? Sono morto Va bene Ok, salta! Ura! Ura! Nooo! Dio, è troppo difficile Dio, l'avevo qui come la cosa funziona Sto cosetto Oh no! Nooo! Mi piaceva! Mi piaceva! Mi piaceva! No! Perchè vai giù? Non devi andare giù! Non devi andare giù! Ok, adesso sali Su, su, su... Salta! Nooo! C'era una cosa blu! Sì, ora non c'è più! Fuck! Ha! Perchè la cerca e vedere i cazzotti? Ma che cazzo c'è questa? Ok, sono morto Ok Che cazzo devo fare? E muore! Ma dai, ti prego! Che cazzo stai... Oh, bam! Ha lisciato! Che stanno i coniglietti? Non so se ti coniglietti Guarda! 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 Aspetta! Sarà! Fuck! Raga! Come cazzo? E muore! Salta su! Salta su! Salta su! E salta di là! Guarda! Raga! Non capisco com'è! Aaaah! Aspetta! Aspetta! I pin... I... 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 sisi... Vabbè... Ma perchè non ti metti su quel... ...tupillo?! Dai! Ceraめ! Cera quattro!!! Cera quattro!!! Cera quattro!!!! Pantro ― Volverci! Dai, ti prego, ti prego Ogliela coscia, però c'era quasi Pupillo Perché l'ho chiamato pupillo? C'è un eleme No, l'ho patito Ho capito me Ho capito, ho capito Ho capito Vai Salto di qua, salto di là Salto di là Ragazzi, io non so più che cazzo fa Vedi che cazzo tocca fare Tocca mettersi così Avercela mira Fanculo Dai cazzo Adesso vi ho cazzati un po' di qualcosa Anche i coniglietti Muori coniglietto, bravo Esplodi, brucia, brucia Perché io bruci Dai ma salti Perché non salta Non salta Perché mi fa queste cose Non deve fare così Ragazzi Ragazzi Che livello è il quarto? C'è Aspettate un attimo Oh porca Vai Oh ok 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 È tutto coordinato Quando arrivo qua arriva il coniglietto si Che figo I passetti che fa damn però Già I ricordate Quindi Cap governo Democraticattolico C'è Hanculo zumi ma chi ti senti appus? salus decus dai dai ma che cazzo devo? dai venga io sto per cantare in armai contigo perchè arcombo ti sali lì! devi salire! ti sali! cazzo sali! porca troia ma po porca troia si 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 ok adesso adesso vai Gregor cazzo culo beneano si oh 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 oddio oddio guarda i tentativi ahahah spurti tentativi ahahah no che figo ragazzo una sega ahahah uno è rimasto fermo giù scusa è bellissimo guardali poi cercano di salvarsi neanche uno no uno solo sopravviverà quale sarà? vediamo un po uno ma non ce l'ha fatta cazzo sono una sega in due tentativi non ci sono mai riuscito una volta ah ecco quelle cazzo ok era questo tassi su level 2 jump it spaga i nega ok sono matto devi saltare devi saltare devi saltare devi saltare devi saltare che non salti che ti inlami da solo non devi inlamarti salta salto giù corri adesso salta sinistra destra su ok era giusto era giustissimo destra 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 ecco com'è ecco ci fa tutta ecco oddio me l'ho preso un colpo e la spara via perchè lo fa cazzo che cazzo rega ma come cazzo fa e muoio e muoio aspetta ah hai capito e muoio e muoio e muoio e muoio perchè cazzo muoio non devi morire chi ha detto che devi morire sto detto ma è cazzo che devi morire questo minchione sto secco culo cazzo cero cazzo cero 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 si si ok perfetto 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 mi piace mi piace ah quindi scotta ma ecco il cazzo ja e muoio salto del n***a e muoio salto del pene gigante era giusto Che cazzo faccio adesso? Mi uccido da solo perchè L'unica posibilità è che Yeah yeah bitch I'm a fucking maker I'm a fucking winner Ok 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 sto capendo sto capendo Ok ok Non ho capito Salto, distruggo e muoio Perfetto Ok Stacco Salto qua, salto la Soccetto di merda Perchè cazzo non saldi? Devi saltare Ok mi piace, mi piace, mi piace Yadaaa Perfetto, perfetto, perfetto Ahah I diventativi, sono troppo buffi Ok qua è tutto infuocato Va bene ragazzi Questa è una piccola puntata La prima piccola puntata E vabbè ci vediamo nella prossima puntata Bella a tutti ragazzi Ciao Ciao